Buonasera a tutti, devo dire che sfidando il gelo di questa domenica d'inverno ci siamo ritrovati qui nella borgata di Panetti, questa bellissima borgata di Panetti dove le associazioni del territorio hanno organizzato questo momento che rientra nel Festival delle Erranze, è stato un momento molto bello, soprattutto la mia personale gioia è quella di aver visto coinvolti tante persone, tanti giovani, tanti ragazzi che hanno creduto in questa esperienza ci sono riusciti e questo rientra sempre in quella logica che conferma che quando le forze stanno insieme producono davvero molto frutto, questo è l'augurio che faccio alla nostra comunità, questo è l'augurio che da parroco faccio a questa mia comunità che possiamo sempre più sentirci uniti, gli uni a servizio degli altri per contribuire al bene comune della comunità. Grazie a tutti! Grazie a tutti!